ciao a tutti io sono il patronto io sono andato con il rialetto ma che è tutto il sordio l'arrivo è andata a tutti i somni a tutti i somni si pronto si ah francesca ciao come va tutto bene no no io ho chiamato si Fabio non c'è? si si no ho chiamato perchè lo sai che tre mesi o quattro mesi che io non sto lavorando lo sai che c'è corona sono sempre a casa non c'è più soldi ah ma è poco non è tanto a totale di questi quattro mesi si quasi tredici mila euro da pagare si come? ah è morto quando? mio dio ah mi dispiace ah non dire così ah tu non puoi pagare? perchè perchè lui è morto? si ma ma fa niente signora guarda lo sai che io sono fa niente noi vogliamo lui ma non vogliamo soldi eh se lui è morto è morto di io mi che che ma guarda lo sai che si guarda le delle delle gli i i a E' un giorno alla fine, non so no. Anche questo? Alla fine, come a fare un progettato? I amminto? Era un ruolo, un ruolo, un ruolo, ma non è così, un ruolo, giusto il mio quello che era il suo desiderato. Ma è un ruolo, la fine è così, ma è la fine, ma è il 주o, non è il ruolo.